Grazie a tutti. 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 Now this helps me to take his structure. Quindi questo mi aiuta più... Va bene dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' anomalo, un po' anomalo, ma necessario. Poi i semi troveranno il solco giusto e matureranno a quel tempo. Un po' anomalo, un esperto non vede... Un esperto non vede... Grazie a tutti. Grazie E quando abbiamo iniziato un pochettino a studiare come funziona la struzione del scarpo possiamo parlare di studiare un po' di riuscire Quindi potremmo provare ad esercitare attraverso il push show le posture che abbiamo imparato attraverso la forma E a volte penso che è interessante vedere i punti che sono fuori dalla forma Quindi venendo e se venendo qui vuoi stare nella forma e prendere tutto Quindi venendo qui e se venendo qui vuoi stare nella forma Ora lui ha iniziato a perdere la tua forma Pronti per la gara? Sì Ciao Sì 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 dai piero dai fai lo piero 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 battiti bai 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 Massimo! 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 Massimo Pieturo! Go! Massimo Pietro! Massimo Pietro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.